Ciao a tutti cari amici della Sporting 3 Basket, siamo con Filippo Tagliavue al termine di gara 1 contro Lissone, valida per i quarti dei playoff 2021 del campionato di Serie C Gold. Pippo, siamo qui a commentare un successo, 82 a 73 il punteggio finale in favore dei massicci. Partiamo subito con un tuo commento iniziale sulla vittoria. Allora, una bellissima vittoria, arrivata dopo una partita molto nervosa e fisica e sono veramente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. A un certo punto è scattato qualcosa in voi, partendo sempre dalla difesa. Sì, 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 una difesa. Magari abbiamo sbagliato qualche scelta tecnica che abbiamo provato durante gli allenamenti, però abbiamo dato tutto, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Nel momento del bisogno i veterani sono fatti trovare pronti e hanno trascinato come dei gladiatori gli altri compagni per ottenere questo successo in gara 1. Detto questo, ora bisogna azzerare tutto perché mercoledì si torna in campo per la gara 2 e sarà un'altra e vera proprio battaglia. Sì, come ci ha detto Sandro, è una partita lunga di 80 minuti. Adesso è finito il primo tempo. Invece volevo anche stuzzicarti sulla tua prestazione perché hai 15 punti, una prestazione importante, ti sei fatto sentire sul tuo canestro, specialmente in attacco, hai sottotato anche qualche mismatch qualche volta e hanno giovato. Sì, diciamo che ho giocato praticamente tutta la partita infortunato, però il dolore lo sentivo soltanto quando mi sedevo in panchina. Ringraziamo Pippo Tagliabue per essere stato qui con noi e vi diamo l'appuntamento a mercoledì ore 21 sul campo di Vissone per gara 2. Non mancate!